Scontro sui dazi al G7 finanze canadese. I paesi europei promettono una risposta forte alle mosse americane. La Cina dice che nessuna intesa se le tariffe aumentano. Francesco Di Mario. L'ultimo monito sui dazi è della Cina. Qualsiasi accordo per porre fine alla disputa commerciale non entrerà in vigore se l'aumento delle tariffe USA proseguirà. Il messaggio arriva dopo il terzo giro di colloqui a Pechino fra il segretario al commercio americano Wilbur Ross e il vice premier cinese Liu He. Obiettivo di Washington è convincere il colosso asiatico ad acquistare più prodotti a stelle e strisce per ridurre il deficit di 375 miliardi di dollari nell'intescambio. Lo scontro sui dazi è stato anche al centro del G7 finanziario in Canada che qualcuno ha ribattezzato il G6 più uno mai così diviso, secondo il Giappone. Sotto accusa gli Stati Uniti e le loro azioni commerciali che, secondo i partner, mettono a rischio la cooperazione tra i paesi più avanzati. La reazione europea sarà forte, ha dichiarato il ministro delle finanze tedesco Scholz. Washington dia segnali per evitare una guerra dei commerci, ha aggiunto il francese Lemaire. I paesi del G7 sono i nostri alleati più importanti ma vogliamo scambi giusti ed equi bilanciando il deficit con la Cina, ha risposto il segretario al tesoro americano Mnuchin che, alle accuse più dure, ha replicato parlatene con Trump. Confronto dunque rinviato al G7 dei capi di Stato e di Governo fra cinque giorni, sempre in Canada.